Una bellezza così particolare da non poter passare inosservata. Grande voce, talento per le arti marziali e una parte nell'ultimo capitolo della saga di vampiri più famosa del Grande Schermo. Un biglietto da visita niente male per Bubu Stewart, che a 16 anni arriva al cinema con Twilight Eclipse. Nato a Beverly Hills il 21 gennaio 1994 da mamma Renee e papa Nils, all'anagrafe fan Nils Allen Stewart Jr. La sua famiglia, al completo con le sorelle Megan, Trent Feevel e la piccola Sage, è un incredibile mix di etnie diverse, da cui derivano i tratti somatici così insoliti. Nelle vene di Bubu scorre infatti sangue giapponese, cinese, coreano, scozzese, russo e degli indiani dai piedi neri. Ecco spiegata anche la scelta di questo strano soprannome. Bu in giapponese significa guerriero. Prima di diventare famoso nei panni di Seth, il più giovane tra i licantropi della storia ideata da Stephanie Meyer, Bubu ha fatto molta gavetta. Le prime parti arrivano nel 2006, a soli 12 anni, nel film indipendente The Corrad Boys, in Zoom, e nel 2007 in Beowulf, di Robert Zemeckis, vestendo i panni del protagonista da giovane. Nello stesso periodo recita anche in molti telefilm, come Yarr o la sitcom Tutti odiano Chris. Definito uno dei giovani talenti d'America, Bubu non si ferma alla recitazione. Fino al 2008 ha fatto parte dei T-Squad, un gruppo hip-hop che ha girato tutto il Nord America, si è esibito nei tour di Miley Cyrus e dei Jonas Brothers, mentre quest'anno ha inciso il brano Under the Sea, della Sirenetta, per la compilation Disney Mania 7. E oggi è ancora in tour con le sue due sorelle più grandi, Fivele e Megan, ovvero i TSC, The Stewart Clan, il clan degli Stewart. Ma non è tutto. Bubu pratica arti marziali a livello agonistico fin da quando era un bambino, e nel 2002 è entrato nella Hall of Fame riservata ai giovanissimi per questa disciplina. La sua passione per il wrestling l'ha poi trasformato in un giornalista. Da gennaio a una rubrica fissa sul sito del canale americano Total Non-Stop Action, in cui intervista le stelle del ring. Cinema, musica o arti marziali. Grazie al suo talento il giovane Bubu non si ferma mai, e c'è da credere che non si accontenterà certo dei vampiri più famosi del grande schermo.